Arriviamo alle tre del mattino, appunto l'ultimo romanzo, il tredicesimo. In questo romanzo è proprio alle tre del mattino, dopo due notti insonni che i protagonisti vivono insieme in maniera inattesa, i protagonisti sono un padre e un figlio, è proprio alle tre del mattino che accade qualcosa che cambierà le vite di tutti e due. Tra poco scopriremo che cosa accade, però prima vorrei ricordare al nostro pubblico, e qui non c'è, nell'avvocato Guerrieri, nel maresciallo Fenoglio, che hanno ispirato tanti suoi libri, c'è appunto una storia, che poi si rivelerà una storia d'amore, tra un padre e un figlio, legati, lo scopriranno solo in seguito, dall'amore, anzi dal talento per la matematica. Studente in disciplina. Ma ha studiato anche la matematica, no? Sì, sì, ho studiato matematica, il jazz, anche la medicina, perché questa è anche nella sua struttura una storia di malattia e guarigione. Tutto comincia con la scoperta da parte del ragazzo e dei suoi genitori che il ragazzo ha una malattia che si è per tanto tempo portata a uno stigma di vergogna, cioè l'epilessia, ed è la storia del viaggio di trasformazione che condurrà poi, dopo una serie di avventure, perché di questo si tratta, alla guarigione dalla malattia, ma non è questa la cosa più importante, al passaggio della soglia fra la giovinezza e l'età adulta per il ragazzo, e soprattutto a un riconoscersi improvviso di un padre e un figlio che prima non si erano mai veramente conosciuti. È bello quando accade questo, eh? Non è frequente, ma è bello. È molto bello. È una storia vera quella che lei racconta. È ispirata a una storia vera, sì. Lei ha raccontato un amico tanti anni fa, no? Sì, è un amico, mi raccontò questa storia, poi io ci ho scritto un romanzo su, è diversa da quella che mi ha detto lui.